Perfezionò quello che è stato conosciuto come il socialismo con caratteristiche cinesi, che si riassume, si basava in quattro elementi, quattro modernizzazioni che erano relative all'agricoltura, all'industria, alla scienza, alla tecnologia, ma soprattutto all'apparato militare. Parliamo di Deng Xiaoping, era nato il 22 agosto del 1904, leader incontrastato della Repubblica Popolare Cinese, fautore anche dell'apertura della Cina maoista verso teorie economiche rivoluzionarie più liberali e di mercato. Fu anche il primo leader della Cina popolare ad incontrare, ed era nel 1979 un presidente americano. L'incontro avvenne alla Casa Bianca e allora, al vertice dello Stato statunitense, c'era Jimmy Carter. Deng è artefice di una straordinaria apertura politica, se pensiamo a quei tempi e a quella Cina, permise al colosso asiatico di essere riconosciuto dall'ONU. Deng Xiaoping è anche ricordato dalla storia per il pugno di ferro con il quale, era il 1989, soffocò nel sangue la protesta studentesca a piazza Tiananmen. Muore nel 1997, dopo alcuni anni in cui ebbe una difficile convivenza con il morbo di Parkinson.